Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oh, oggi siamo su Team Fortress 2 E con me in chiamata c'è Un tizio qui davanti a me Termano, è il 257 E poi? Eh, sono... Tomcat 350, scusate Ok, guarda che abbassa un po' due Perché mi sa che... Ho sentito un po' troppo alto Ah, oddio... No, io l'ho abbassato del tutto Stop testisti top side Ok, così va molto, molto meglio Ok, ragazzi, iniziamo a giocare A spancare Davvero È già morta adesso, ragazzo Comunque ragazzi, comunque ragazzi Mi dispiace che non sto facendo più video Ma guardate, ho troppi impegni A scuola, tutto Non è una palla totale Un po' due È impegnato, se Evi, evi, evi Evi, evi Ma perché vado col medico Adosonei evi, cazzo Hai voglio provare Ti enti, struttate di manoscorso Mi ha detto, ti enti, struttate di manoscorso Ah, che poi c'è anche Marku, c'è Tom, Kraft 50 cazzo da qui il medison non ci parliamo il buon cartone ragazzi se avete un articolato, se avete un articolato, cazzo fatemi parlare se avete un articolato, di prego scambiatemelo non è vero non scambiatemelo sì c'è il person bam come si impegnava e poi si impegnava quando registro un polaco dai anche io è ovvio io lago appena appena giusto a poco che cazzo no c'è questo come vedete ragazzi cazzo no sono spira ma perché c'è stato razzo come set primario anzi provo a usare il corpo diretto che se non sapete il nome e spia se comunque ragazzi niente già oh si è già un petto oh che kill fanculo che cazzo ho fatto dai curami dov'è to dov'è tommino tom dove sei c'è antonio anto 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 dottor ho 5 di vita 2 e 1 è 2 e 1 ma qualcuno ha messo il time per il video scusate e vabbè come verrà verrà aiuto aiuto se il video sarà lungo più di 20 minuti farò un video spezzerò il video in due parti già ve lo dico perchè ho una connessione del Kaiser quindi non posso stare lì volevo la caricata io invece si posso caricarlo ora ora e là vai oh mio dio aspetta che sta con il caricabatteria voglio vedere come funziona oh funziona bene oh spegni merda fuck yo c'è una spia vicino allo spanco è un visto oh te colpi ragazzi no tante che no ho solo colpo ho solo colpo oh che kill un solo colpo ragazzi sto curando comunque ragazzi comunque se mi vedete giocare in team person perchè a me piace allora scusate poi se a voi non piace nei video non mi metterò più in team person no vabbè assorto paio di merda fanculo no ma questi qua si mettono fp io non vedo un cazzo con la team person come vedi eh dietro ma marcus no io dietro vedo guarda guarda io scusate io c'è una spia eh calma si imbi si per spi si imbi si ma che cazzo ma vaffanculo ma come mai oggi non vanno molto d'accordo con TF no lo so spia 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 cazzo spia avanculo c'è il jump molto epico e chi non ci possono stare al massimo a mamma cosa fa oh 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 c'ho 24 di vita e mi sento che mi uccideranno no c'è chi no no oddio si è normale che sto registrando e non largo tanto è molto strano no 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 io sono grosso eh bravo quindi tu ci vedremo tutti siamo rossi comunque grosso con la g ah ho capito rosso anche ho capito rosso ha detto rosso tranquillo grosso non talmente sto laggando un po' cioè non riesco a beccare nessuno ah si no c'è una spia con il tuo nome manu sei ucciso uccidire ah eh tu per te l'avevo visto tu hai spiaccato io faccio medico di un bel zerson avanculo palle double kill 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 un secondo ragazzi un secondo guardiamolo bene guardate loro due eccomi io sono premium io sono premium anche io anche Antonio anche Antonio soltanto che però dovrà fare molta carriera Tom invece no eh sei no no guardate una mischia di davanti ce ne ho proprio scoperto che niente what's up va ora mi cosa assurdo non mi sto concentrando non mi sto concentrando cazzo se ne se ne vente cioè c'è vabbè avevo ucciso uno con so più bello io come medico stronzo dove vai non c'è buon con medici spai comunque ragazzi poste miei 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 con quale di manu edito un fatto un lieve non so non so chi ha scritto hacker non so chi ha scritto hacker beh io non sono Tom ma lui si chiama marcus perchè voleva cambiare il nome Tom marcus con lo me cazzo si chiama lui oh spie di merda oh spie oh spie il problema del cecchino è che hai una visualità c'è proprio che bello fanculo mentre io esulto mi uccide chi è che qualcuno mi ha inviato qualcosa io no vabbè fanculo boom boom baby madonna critico fituso oh yeah spia ho detto vabbè lasciamo stare ma qui c'è un po' di gente assoluto padampapampapam siiii addio grosso spia 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 siiii spia di merda bro come sapere sto froci in chat cosa sta dicendo comunque lascia stare lascia stare dai mi scelgo sia c'è una spia che mi attacca da sopra cazzo eh e c'ho anche uno di vita mi sparo per vedere se hai spia in giro ahè mi di merda ho fatto che va il cuore mi merdoso manchimus c'è critico in testo e non muore spiegatelo e mancolato si mi danno stiamo scherzando che cazzo c'è 150 di video c'è inizio che sto con con scherzo nooo vaffanculo 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 spia nooo spia ok 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 bug signori c'è il mio cappello che oltrepassa il mio e cioè boh cazzo di bug oh andiamo quella base oh 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 chi è che mi spana chi è i nemici forse sono tutti ma sono invisibili sono invisibili come vedete ragazzi ho cambiato la skin dei dei blu ho messo la skin on perchè mi piace che volo che ho fatto fare a lenji si non cambiare oh che kill signori che grande decisione mi sembra non ho capito cosa ho detto comunque l'agro lo consiglio si infatti ok ma c'è un grosso che mi pare io sono invisibile no poi c'è schifo poi c'è schifo poi c'è schifo poi c'è schifo c'è schifo che 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 c'è schifo adesso faccio una cosa che non so neanche io cosa dovrei fare comunque vorrei tentare una cosa si è tutto così anzi no buonasera 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 se che tu lo sei buona dimmi minchia dimmi minchia oh non si leva proprio ma guarda ma che cari ho già messo ma che cosa hanno l'intuito proprio guarda c'è stavo sparando da solo io appena mi trovo visibilità vicino ma io molto ma va un cul cioè rendersi conto ucciso da una spia eh è un po' più di gente lì guarda che spara mi caga mi caga proprio mi caga proprio mi caga proprio che cazzo vuoi figli di puttani quanto odio quando vengo ucciso dai free to play oh mamma mia mi viene un nervoso perchè so ho la nausea eh vedo tutto nauseato perchè hai fatto ssrtd porca miseria no dai prendiamoci uno soldato spia spia finalmente comunque mi sa che il video è abbastanza lungo eh ti dici oh spia qui proprio dove dove lo faccio che camperone non faccio proprio il camperone con la spia ma mamma ma no dai ma vaffanculo nooo dai cazzo ho trovato in un modo scusata ragazzi e di acomi volevo pensavo che era skype pensavo che era skype di tranquillo te puoi anche andare se sto cosa ho voluto le palle sto cosa che è che è che è ma fa un culo stronzo muori ah c'è che è che è ah sta certo via cambiamo in questo si si divento il loro medico può uccidere quella che mi sta dominando se no non sono contento grande tom grandissimo non no no un freddo play di merda un freddo un freddo un freddo un freddo un freddo un freddo madonna me che sfiga si chiudono raggando caso porca miseria come vado a scatti si chiudono è un freddo un freddo un freddo un freddo un freddo cazzo occhio tanto eh infatti sto andando lo stanno d'affanculo a casa oddio aiuto il mio computer si sta per suicidare oddio nooo nooo guardate come vado a scapire andate comodo nooo 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 come raggo pyro nooo 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 ancora nooo ancora nooo 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 raga se per esempio conoscete viantart porca miseria come la ok ci sono allora se conoscete viantart ragazzi ci sono anch'io ci sono anch'io faccio poster su source filmmaker sono veramente molto cari e li pubblico la se vi volete watcharmi infatti io ho fatto anche a lui un poster gli è piaciuto molto e se volete ve ne faccio ve ne faccio una a voi e naturalmente ma via quello delle dello sniper e fa un culo non ci chiedo fa un culo con la fiamma bello è un concetto molto l'invisibile che non fa un cazzo ma fa un culo stronzo muore l'idea di stoppare il video comunque appena muore già sarà molto veloce ecco ecco non c'ho io che no siiii siete anche voi spie ok sono morto vabbè ragazzi io direi che per questo video possa anche concludere qui ho trovato ho trovato lo scaldatore lo scaldatest lo scaldatest mi serve me lo devi scambiare ho tucido ho visto guardate ho tuciso ovviamente anche Manu sta registrando quindi vi lascerò il link si infatti vedremo il video si comporta bene nelle prossime 24 ore poi c'è un bel batticinque di spie si fantastico ma che cazzo vuoto vai via 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 ti vuoi fare contro eh dai vabbè basta se no se no se no ci vediamo il video è troppo lungo cazzo vi lascerò il link in Manu in descrizione di Marcus forse spero che vi iscrivi iscriviate nel nostro canale nel nostro canale sì, c'è nei nostri canali beh dai dai quasi 5 vi salutiamo ciao belli ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ragazzi